Come i cani non guardo mai le persone per prima negli occhi, perché nel linguaggio dei cani guardarsi negli occhi significa mettersi sullo stesso piano. Per cui se voi avete paura di un cane e incontrate un cane per la strada, non guardatelo negli occhi, perché in quel caso il cane vi ignorerà. Oltre a somiglianze con i cani io mi sento spesso come un riccio e qualche anno fa sono stata molto colpita da una notizia di cronaca perché i ricci erano andati in letargo troppo magri, perché le campagne sono piene di diserbanti e di veleni, per cui i riccetti che erano andati sottoterra ad ottobre e poi non si sono più svegliati a marzo. Dovete sapere una cosa, che il riccio affinché possa uscire dall'etargo indenne deve pesare almeno mezzo chilo quando va sottoterra, perché se no non ce la fa. Tempo fa sono stata qui a Treviso e ho conosciuto una signora che ha una sorta di clinica per ricci, lei si chiama Ferdinanda e Ferdinanda mi ha raccontato che le avevano portato un piccolissimo ricetto orfano che pesava 40 grammi, 40 grammi è come mezzo croissant e che quindi lei alimentava questo piccolo riccio orfano con altri ricci orfani un pochino più grandi e poi quando raggiungevano il peso di mezzo chilo li liberava. Vorrei lanciare questo appello agli abitanti di Treviso di adottare un riccio.